Cinzia di Francia Seconda classificata a prestigioso premio Calliope con la poesia Allah Yahweh Adonai, Signore degli Eserciti Il premio Calliope viene indetto ogni anno dal Kral del Comune di Pozzoli che attraverso il suo presidente dottor Antonio Daniele e il vicepresidente Ciro Di Bonito dirige il coordinamento Kral della Campania In greco Dio si dice Theon e giustizia Disce Combinando i due termini si ottiene Teodicea Teodicea in greco traduce la giustizia divina pone l'inevitabile dubbio che prima o poi ci assare a tutti indistintamente quando ci troviamo di fronte al male e alla sofferenza Allah Yahweh Adonai Alla Yahweh Adonai, Signore degli Eserciti Quanti nomi hai Dio? Dove sei? Non ti giunge l'eco di vittime immolate in tuo nome? Pretende il suo tributo di sangue, Erode Non ha fine la strage di innocenti Cadute sono le colonne del tempio e conteso il muro del pianto Stridono i cingoli a Gaza sugli inermi hijab Tu, dove sei? Sei forse seduto al fresco dei rossi cedri del Libano? In quale Eden ti sei rifugiato? Nel caldo vento di Damasco Cadono i petali di bianchi fiori di melo Abbiamo chiesto a Cinzia di commentare questa poesia Ma lei stessa ci ha risposto con un'altra poesia L'albero del bene e del male è un mele che fiorisce a Damasco Fiorisce e il cantore intenso dei fiori rappresenta l'innocenza delle idee e la loro rinascita Io voglio complimentarmi con te Ti faccio un baciamano perché non so se hai seguito il mio consiglio Ma lei è recitata benissimo Brava